insomma mi diceva eravate interessati ma che fa scusi non sono il santo padre allora mi scusi no le dicevo voi avete già la struttura eccolo qua il vecchio convento potremmo trasformarlo in un modernissimo ospedale radiamo al suolo l'abstile ad esempio e facciamo un bel ascensore di sestallo fine mi scusi è anche una bella idea però io nel convento sette povere sorelle che hanno fatto voto di silenzio sono lì da sempre capisce meglio chi taccia consente no santo padre direi sono santo padre andiamo madre che ha dottore che si fa la struttura vuota taglie taglie vada sorella vada 34 mettete davanti che c'è la parte del carcetto direttore venga così 5 6 molto bene i bagagli vanno dietro è veloce che fa questa cosa fa sorella lo sente quello che diceva il pulmino andiamo ma che fai pazzita ma la preghiera sorella